Videone, la baby dance in televisione è un programma realizzato in collaborazione con La Tartaruga Service, società di animazione e servizi, organizza ogni tipo di festa, dal compleanno al matrimonio, giochi, animazione, baby dance, mascotte e tanto divertimento. Per informazioni 0543 1803 018 oppure visita il sito www.tartarugaservice.it Tartaruga Service, organizziamo alle grine. Buon Natale e auguri! Videone, il programma della baby dance in televisione. Bambini, al mio 3, urlate forte buon Natale. Pronti? 1, 2, 3, buon Natale! Videoregione, Videone, la baby dance in televisione. Abbiamo giocato fino a qualche minuto fa, sacco vuoto, sacco pieno. Io vi lascio perché vado a vedere se Babbo Natale è pronto ad arrivare. Vado a vedere, le volete le caramelle? Sì! Allora vado, 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 vado. Visto che tutti vogliamo le caramelle, venite tutti qua da me, ci giriamo tutti, giratevi tutti verso di me, tutti verso di me, tutti verso di me. Allora, adesso sapete che sta arrivando Babbo Natale, dobbiamo provare a chiamarlo, ok? Come prima, ci giriamo al 3 e urliamo, Babbo Natale, ok? 1, 2, 3, Babbo Natale! Non vi ha sentito secondo me, è vero? Riproviamo, ci rigiriamo, ci aiutate anche voi, aiutateci anche voi. 1, 2, 3, Babbo Natale! Eccolo! E arriva Babbo Natale! Eccolo qua! Ben arrivato Babbo Natale, come stai? Un po' stanco perché arriva da una notte... Molto lontano! Da una notte intensa, come hai fatto questa notte, cioè ma ti sei calato dal camino, hai preso l'ascensore, dillo che hai preso l'ascensore in quel condominio alto, alto, alto. Non lo so, ero stanco, non ho neanche conto, non so ne sono passato. Allora, questo programma, Babbo Natale, arrivi qua, vedi, ci sono loro, qui abbiamo... Eh sì, sì, secondo me c'è qualcosa qua, vedo, vedo... Però, caro Babbo Natale, ti dobbiamo fare una piccola prova, intanto attenzione perché qui abbiamo una piccola... un folletto praticamente... E dobbiamo farti una piccola prova, poi loro ti fanno vedere quanto sono bravi a ballare e poi ci regalerai anche a me, che sono angolo vecchio ma molto goloso, un po' di cioccolatini, un po' di caramelle. Anche a me, anche a me! Anche a voi! Anche a me! Allora, posso prendere un attimo questo in consegna? Allora, mi porto nella mia postazione e ti lascio... Lei è Arianna e lui è Gabriele. Ciao Babbo! Ti lascio un attimo con loro, intanto io guardo se è tutta roba buona che si sa male. Va bene. Guarda lì. Un Babbo visto che già sei venuto qua con noi, no? Però i bambini che sono a casa non possono farlo, cioè non possono ricevere i cammini, quindi facciamo un po' di stretching assieme a tutti i bimbi che sono a casa e poi facciamo una bella canzone. Va bene. Allora, bellissimo oggi, stretching con Babbo Natale. Vai Babbo! Solo a Videone, solo il giorno di Natale. Vai! Ok, Babbo! Sei stato bravissimo, i bimbi a casa si sono scaldati, i bimbi in studio qua si sono scaldati tutti. Adesso, Babbo, facci vedere quanto sei bravo a ballare e poi ti facciamo vedere noi qua. Scusa, noi siamo qua con Babbo Natale, abbiamo finito il riscaldamento, siamo pronti per lo stacchetto? E io iniziavo, mi portavo avanti, insomma. Va bene. Allora, noi Babbo facciamo partire lo stacchetto. Con Babbo Natale, venga boys! Tutto cosa siamo per grosso. Venga bella! Un muonama, es un luogo cinema che sia una via un cane. Hego un luogo pivotio. Ho abbiamo una di una mano a comparsa, lovingசi anti-lozcz. Questa Spike iseta per l'acquire, hyvastica, fossilizontale le rai? Scusa, la Russia di realised siyson auto è il scritto negare un insemin ha. bravissimi bravissimi bravi applauso bene bene babbo visto che tu sei stato veramente bravissimo bravissimo adesso tocca a noi far vedere a te come balliamo e poi regaliamo le caramelle poi ci rivedremo un altro giorno però angolo scusami dimmi io oltre a fare ballare tutti i bimmi che sono qui farei proprio ballare tutti vero babbo sì 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 tutti 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 direi che è una bella festa quella di oggi quindi io mi direi le mamme i papà gli amici che sono venuti fin qua oggi giorno di natale di alzarsi in piedi e mettersi qui al centro con tutti i bimmi e ballare vicino l'albero con babbo natale tutti insieme una delle nostre canzoni bandiera di videone che è il cicciua che è pronto per essere ballato allora eccoli qua guardate che bel quadretto venite avanti anche lì dietro cristiano c'è chi arriva da rimini da tutta l'emilia romagna se volete partecipare poi nei prossimi giorni chiamateci ma io direi che siamo pronti e poi regaleremo le caramelle e allora pronti con il cicciua 3 2 1 musica vai babbo natale attenzione attenzione compagnia 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 eh 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 passate il dito passate il dito eh eh giro passate il dito passate il di cuciua passate il cuciua passate il cuciua passate il cuciua Atenzione, sì signor! Un, due, salto! Un, due, salto! Un, due, salto! Un, due, salto! Compañía, Compañía! Bras extendido! Muño cerrado! Delos arriba, hombros fugidos! Compañía, Compañía! Bras extendido! Muño cerrado! Delos arriba, hombros fugidos! Cabezas hacia atrás! Chihuahua, 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 chihuahua Compañía, vas extendido, vas extendido, uño cerrado, uño cerrado, danos arriba, danos arriba, ombo flusido, ombo flusido, cabezza hacia atrás, cola hacia atrás Chihuahua, 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 chihuah Che mittico Pabonata è! Non c'è che dire veramente bravi bambini, bravi genitori, le zie soprattutto e bravo Babbo Natale. E allora io mi stringo qui con voi al centro perché siamo arrivati alla conclusione di questa puntata natalizia. Babbo Natale questo è tuo e adesso hai il tuo compito, abbiamo un po' di bambini. Bambini venite qua sul palco, ci mettiamo proprio qua tutti, ecco, anche il giorno di Natale ci facciamo la dentiera nuova. Bene lì Davide, allora ci rigirate tutti di là dove ci sono le telecamere e intanto facciamo un altro urlo Buon Natale a chi ci segue da casa, pensate anche a quei bambini che magari sono a casa a letto con l'influenza che magari non possono scendere dal letto e ci stanno guardando. E allora il mio tre Buon Natale anche a loro. Uno, due, tre! Buon Natale! Un applauso, grazie! Allora adesso sui titoli di coda, sulla conclusione invece, tu continui perché facciamo vedere anche questo pezzo e invece inizia a dare un po' di regali. Allora Gabriele e Arianna venite qua invece, così facciamo vedere la distribuzione delle caramelle. Allora, le volete le caramelle bambini? Sì! Sì, allora sedetevi per terra bimbi, seduti per terra. Ecco qui il nostro Babbo Natale, puoi cominciare, puoi anche dare un pezzo del tuo abito se vuoi. Meglio di no, che ci serve, che ci serve. E allora, vai, vai con le caramelle e non solo, e non solo le caramelle. Ecco qua! Ci sono i soldi, è bravo! Arianna, tu anche a Natale, le manci, arrivano! È una caccia, cioè un... C'è un bambino piccolo! Vai, ancora Babbo Natale! Videone, la baby dance in televisione, cioè questo è per te, guarda, questo te lo regalo per te perché è Hello Kitty, so che ti piace tanto. Guarda, ho i calzini, ho i calzini. C'hai i calzini di Hello Kitty. Tu hai ben ten, perfetto, va bene. Io ho i calzini più. Ancora, altra manciata, ce l'abbiamo, l'ultima, e intanto salutiamo davvero chi ci segue da casa. Tutto allo staff di Videone, la baby dance in televisione, salutiamo lui, salutiamo loro che sono a casa, Arianna, Gabriele della Tartaruga, volano le caramelle, ciao, Videone continua, ciao, a domani, a domani, grazie!